Un'opera Ausonio, 310-395 d.C., poeta e insegnante romano. In epigrammi dice Comincia. L'aver cominciato vuol dire aver fatto a metà. Torna a cominciare l'altra metà e potrai considerare compiuta l'opera. Commento. Si comincia e si compie un'opera, non per un pensiero, ma per l'intenzione, che è un gesto del sentire.